Ciao, benvenuti in mio podcasting stagione 14 vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto Ciao Stagione 14, episodio 165, Mio Podcasting Chi cazzo si compierebbe la Sardegna e la Sicilia? Ecco di questo quello che andremo a parlare rapidamente in questo podcast audio come al solito se volete espandere il tema di questo podcast il link lo trovate in descrizione sarete catapultati sul blog Mio Radar dove troverete appunto la bloggata Chi cazzo si compierebbe la Sardegna e la Sicilia? Andiamo a bomba e non perdiamo tempo Immaginiamo che lo Stato italiano sia di fronte ad un default per evitarlo oppure per ridurne l'impatto finanziario decida di vendere del territorio nazionale quindi vendita di territorio nazionale per abbattere il proprio debito pubblico Gli unici territori che potrebbero essere venduti minimizzando la perdita nazionale sono le due isole maggiori Sardegna e Sicilia Incominciamo ad immaginare partendo dalla Sardegna che è il pezzo di territorio nazionale più piccolo Che cazzo si compierebbe la Sardegna e la Sicilia? Quanti miliardi di euro potrebbero valere le due grandi isole? Probabilmente l'unico soggetto che potrebbe essere interessato alla Sardegna potrebbe essere la Francia sia per tutelarsi dell'esposizione dei 290 miliardi di titoli italiani classati nel sistema finanziario francese sia perché la Sardegna potrebbe essere inserita nel Dipartimento Corso come prolungamento geografico La Sardegna ha una superficie di 24.100 km2 con una popolazione di 1.5 milioni Ha un PIL regionale di 33.9 miliardi il PIL pro capite regionale è di 20.900 euro approssimativamente un 35% in meno rispetto al PIL medio italiano pro capite che è di 32.368 Una realtà geografica ed economica poco diversa dalla Corsica che è più piccola superficie di 8.722 km2 con una popolazione di 343.000 abitanti con un PIL regionale di 11 miliardi e un PIL regionale pro capite di 32.069 Ecco il PIL pro capite regionale di Sardegna e Corsica sono simili per quanto il PIL pro capite regionale della Sardegna sia inferiore a quello corso di circa un 34% Le attività economiche principali Sardia sono simili a quelle corse la Sardegna potrebbe essere valutata a criterio di rendita perpetua pari a W uguale R su I quindi sostituiamo con R il PIL regionale annuale prodotto quindi 33.9 miliardi diviso E per il tasso di interesse prendiamo il TUS tasso ufficiale di sconto della BC attualmente al 4.25% il risultato è di 797 miliardi Poiché l'esposizione francese in titoli stretti italiani è di circa 290 miliardi ma la Sardegna verrebbe 590 miliardi sia molto di più dell'esposizione finanziaria francese sul debito pubblico italiano allora si potrebbe immaginare che Francia inglobi la Sardegna come nuovo dipartimento sardo corso l'Italia annullerebbe il 290 miliardi di debito pubblico italiano classato in Francia la Francia con un'offerta pubblica di scambio sostituirebbe i titoli stati italiani che sarebbero stati annullati ma classati in precedenza in Francia di investitori privati e quindi la Francia li sostituirebbe con titoli di stato francese poi la Francia regrebbe all'Italia un saldo di 507 miliardi un importo fittizio che sarebbe girata a BCE la quale annullerebbe un equivalente importo di debito pubblico italiano già presso BCE ecco la Francia di fatto acquisterebbe a sconto del 36% alla Sardegna a causa dell'elevato classamento del debito pubblico italiano presso investitori privati francesi l'Italia da 3.000 miliardi di debito scenderebbe con la vendita della Sardegna circa 2.210 miliardi di debito pubblico circa il 115% un rapporto debito PIL facendo perno sul 2022 PIL Italia per 1.909 miliardi il debito pubblico italiano sarebbe ancora troppo alto 2.210 miliardi per essere ripagato quindi occorrerebbe vendere anche la Sicilia Sicilia una superficie di 25.832 km2 4.7 milioni di popolazioni un PIL regionale da 86.9 miliardi il PIL regionale pro capite di 17.400 euro circa il 46% in meno rispetto al PIL medio italiano pro capite ecco l'economia sicola è un polmone asfittico un buco rosso supermassivo la Francia non vorrebbe comprarsi una roba simile bastandole la Sardegna per compensare l'esposizione italiana inoltre considerando gli alti numeri della Francia in possedimenti stranieri si veda i dipartimenti oltre mare oltre al possente dispositivo militare francese ecco la Francia non avrebbe difficoltà ad abbassare rapidamente il proprio debito pubblico sia conferendo assets militari quanto vendendo dipartimenti oltre mare nonostante l'acquisto dell'assertegno i problemi sarebbero tutti in testa all'Italia l'Italia ha pochissimi possedimenti da vendere a un dispositivo militare che è inefficace e vale militarmente assai poco inoltre l'Italia ha un altissimo debito pubblico che cazzo mai si vorrebbe comprare il buco rosso supermassivo dalla Sicilia in Europa probabilmente nessuno vorrebbe acquistarsi la Sicilia gli USA non sarebbero interessati la Russia potrebbe essere interessata per ragioni strategiche di basi militari nel Mediterraneo ma probabilmente USA e Nato impedirebbero l'acquisto come violazione del trattato Nato la Cina potrebbe essere interessata come possedimento ed hub commerciale militare nel Mediterraneo ma probabilmente USA e Nato impedirebbero l'acquisto come violazione del trattato Nato forse dico forse ci sarebbero solo i petrol arabi gli unici ad avere i danari in nulla osta politico Nato quanto un possibile potenziale interesse potrebbero essere i petrol arabi ricordando l'epoca quando la Sicilia era musulmana nell'ottavo secolo dopo cristo quanto cazzo verrebbe la Sicilia ecco applicando lo stesso criterio di rendita perpetua W uguale R su I con R ci sostituiamo il PIL regionale annuale della Sicilia per 86.9 miliardi e lo dividiamo per I per il tasso ufficiale di sconto della BC a 4,25% otteniamo 2044 miliardi ecco il polmone marcio siculo varrebbe circa 2044 miliardi basterebbe all'Italia vendere anche la sola Sicilia ammesso che i petrol arabi se la volessero comprare appunto per raddrizzare il debito pubblico italiano che ne rimarrebbe dopo la vendita della Sicilia appena 166 miliardi debito pubblico italiano residuo appunto dopo la vendita della Sicilia ci sono altre regioni che forse l'Italia potrebbe vendere escludendo le due grandi isole per minimizzare la perdita di territorio e massimizzare l'entrata finanziaria beh forse la valle d'Aosta forse il Trentino Alto Adice forse il Fiduli Venezia Giulia ma non è detto che esistano compratori per quelle regioni italiane probabilmente la popolazione della valle d'Aosta potrebbe essere felice di poter diventare cittadina svizzera e o francese ma non è detto che la Francia e la Svizzera siano interessate all'acquisto l'acquisto del nuovo territorio pagato a caro prezzo in miliardi di euro non modificherebbe la situazione geografica francese in modo sostanziale e non fornirebbe nessuno sbocco al mare alla Svizzera probabilmente una parte della popolazione del Trentino Alto Adige sarebbe felice di entrare a far parte dell'Austria ma non è detto che l'Austria sia disposta a compiarsi il Trentino Alto Adige quanto a ricoprire di privilegi finanziari la popolazione altoatesina così come ha fatto lo Stato italiano da 1947 con un'autonomia regionale il Trentino Alto Adige tuttavia non fornirebbe all'Austria un sostanziale vantaggio economico dato che l'Austria rimarrebbe sempre un enclave continentale senza uno sbocco al mare probabilmente l'unica regione che potrebbe solleticare qualche interesse nel possibile acquirente austriaco potrebbe essere il Friuli Venezia Giulia dato che quel territorio fornirebbe un sostanziale allargamento geografico ed uno sbocco al mare all'Austria PIL regionale del Friuli Venezia Giulia di 39 miliardi annuali per una superficie di 13.605 km2 con una popolazione di circa un milione di persone applicando la valorizzazione dell'area con il solito criterio della rendita perpetua W uguale R su I sostituiamo con R con il PIL regionale annuale del Friuli Venezia Giulia di 39 miliardi dividiamo per il tasso di interesse TBC attualmente al 4.25% troviamo 917 miliardi un prezzo di acquisto estremamente alto per l'Austria situazione finanziaria austriaca è quasi ottimale 70% debito su PIL per circa 348 miliardi di debito pubblico ma perché l'Austria come stato nazionale potesse ottenere uno sbocco al mare un incremento della sua superficie ed un'espansione della popolazione ecco l'Austria dovrebbe investire circa 917 miliardi per acquistare il Friuli Venezia Giulia probabilmente l'investimento per l'Austria sarebbe troppo elevato oltre che complicato e molto costoso da gestire nel tempo nonostante le grosse prospettive economiche nell'ottenere uno sbocco al mare per l'Austria la totalità della popolazione friulana infatti non parla l'austriaco la gestione dei problemi sociali giuridici politici dopo l'acquisto che non sarebbe una richiesta spontanea della popolazione del Friuli Venezia Giulia ecco potrebbe essere troppo complicata per l'Austria è forse più probabile immaginare un possibile interesse austriaco limitato solo a città di Trieste quanto ad uno stretto lembo di terra friulana che permettesse di collegare l'Austria al mare evitando così l'acquisto dell'intera regione Friuli Venezia Giulia quindi anche se vi fosse la volontà politica italiana di alienare Friuli Venezia Giulia molto probabilmente non troverebbe affirenti in ambito europeo e resterebbero invariati i diniaghi in atto di vendita a Cina e Russia ecco come si vede in questo immaginario esempio fantapolitico gli spazi di vendita di territorio nazionale per l'Italia sono minimi a differenza di Francia e Spagna attenzione la sola vendita della Sardegna per impattare sul debito pubblico italiano non serverebbe l'Italia che andrebbe comunque a default differenziato per un importo di circa 1214 miliardi dall'importo di default però si spalmerebbe in una grossa fetta anche sul risparmio gestito ed amministrato da italiani perché la vendita della Sardegna avrebbe ridotto gli impatti negativi sull'estero avendo abbassato percentualmente il classamento del debito pubblico italiano all'estero l'unica soluzione per lo Stato Italiano ammesso che i petrol arabi avessero intenzione di compriarsi la Sicilia sarebbe alienare solamente l'isola più grande ossia la Sicilia se però non si fosse disposti a venderla e o non vi fossero acquirenti possibili per l'isola allora per evitare un default si potrebbe pensare ad una scissione politica dell'Italia Repubblica Italiana Federale Nord e parte del centro Repubblica Democratica Italiana Sud e parte del centro di due nuove entità istituzionali date con una divisione consensuale come fece la Cecoslovacchia che ebbe a trasformarsi in Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca ecco la Repubblica Federale Italiana e la Repubblica Democratica Italiana si ripartirebbero a metà l'enorme montagna residuo di debito pubblico italiano per circa 1105 miliardi a testa in tal modo il debito pubblico residuo peserebbe circa il 50% per i due debitori dato che il segno dovrebbe ripagare solo la frazione per raggiungere il target del 60% debito pubblico ecco da questo esempio astratto si capisce che se l'inevitabile collasso non sarà gestito l'alternativa sarà un collasso rapido che produrrà una nuova realtà completamente diversa da quella attuale purtroppo il collasso non è evitabile nel XXI secolo perché il popolo italiano ha vissuto dal 1980 con Craxi una corsa folle al debito pubblico italiano come se non ci fosse stato un domani senza che mai i politici italiani e chiesa cattolica avessero preparato l'Italia alle minacce del XXI secolo l'unica cosa che i politici italiani e ladri stupidi e chiesa cattolica hanno pianificato per il popolo italiano è la gioia del martirio nel XXI secolo la gioia del martirio è quello che il popolo italiano avrà nel XXI secolo non essendosi preparato alle minacce del XXI secolo ecco se siete interessati a questi temi potete andare a visionare la mia bloggata il link lo trovate in descrizione che vi riporta appunto la bloggata chi cazzo si compierebbe la Sardegna e la Sicilia ecco queste ipotesi fantapolitiche non sono le lucubrazioni nate così nel vuoto pneumatico ma appoggiano su una serie di bloggate che potete trovare sempre in mio radar di economia di finanze di diritto per espandere il tema da cui poter inferire che queste sono le disperate soluzioni che l'Italia potrebbe probabilmente andare a porre in essere in caso di una gestione controllata oppure in uno sprofondamento totale del nuovo medevo in caso di gestione incontrollata del collasso ci sono una serie di bloggate di economia di finanze di diritto appunto che sono una secchiata numerosa di bloggate che se siete interessati a questi temi potete andare a approfondire tutti i vari titoli e i vari temi e capire da soli che praticamente questi scenari che vi ho detto sono molto più provabili di quanto possano apparire oggi dunque poi troverete successivamente una serie di argomenti correlati sul futuro della UE sempre riga conference what is the strategy outlook for the UE il generale profeta geopolitico professor John Mersheimer in Pivot in China 2017 libro bianco di UE di Juncker è una puttanata inutile ed inefficace il destino dell'Italia e il futuro della UE Unione Europea foresight geopolitico sull'Europa nel ventunesimo secolo oltre a podcast www.climatechangewords.tk eccoci qua questa puntata termina qua se volete andare a espandere appunto il tema chi cazzo si compierebbe la Sardegna e la Sicilia ed espandere altre bloggate di natura economica giuridica e finanziaria sulla crisi finanziaria e il collasso dell'Italia trovate tutti i link nella mia bloggata per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao 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 ciao